Il cantiere Benetton è il più grande cantiere di vela che esiste oggi al mondo. Come tale ha un centro studi molto importante. La funzione di questo centro studi è creare nuovi modelli ma anche e forse soprattutto sviluppare nuove soluzioni, ottimizzare in continuazione le barche che già esistono. Una di queste operazioni è stata concentrata sulla gamma Sense. La gamma Sense uscita qualche anno fa e che ha avuto un particolare successo era molto innovativa perché andava a coprire una richiesta che in quel momento non trovava soddisfazione nei modelli che erano presenti sul mercato. Il 57 è il nuovo modello presentato quest'anno prima a Cannes e poi a Genova ed è appunto la seconda generazione della gamma Sense. Una seconda generazione che adesso ci andrà a illustrare Gian Guido Girotti, il direttore marketing della Benetton per la vela. Siamo a bordo del Sense 57, novità assoluta mondiale. Seconda generazione di una gamma storica, la gamma Sense, unica sul mercato per caratteristiche piuttosto semplici come il pozzetto più grande del mercato, la prossimità massima all'acqua, infatti è tutto un po' più ribassato e l'accesso attraverso solamente tre gradini a tutta la parte anteriore e a prua della barca stessa. Barca che ha aggiunto, oltre a queste caratteristiche inizialmente uniche, anche l'unicità di un bimini semirigido, quindi massima protezione in tutte le condizioni, che permette un utilizzo assoluto, all round, di una barca per veri appassionati, per vere persone che cercano del tempo a bordo e uno spirito di avventura. Grazie a tutti.